Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte e bentornati in un nuovissimo video sul canale Innanzitutto se mi vedete è conciuto così e perché ho un diciottesimo e sto facendo questo video prima di andarci Bene ragazzi in questo video andremo a parlare dell'uscita del Blackview A80 Pro Ci ho già fatto un video sul canale dove elenco tutte le caratteristiche e ovviamente la scheda tecnica di questo smartphone Però facciamo un riassunto, oggi venerdì 29 novembre c'è l'open sale ovvero l'apertura alle vendite del Blackview A80 Pro su Amazon e su AliExpress Al prezzo ovviamente aprite le orecchie di 80 dollari che sarebbero sui 70 euro più o meno 75 euro Quindi ragazzi è veramente un prezzo accettabile per le caratteristiche di questo smartphone Questo smartphone infatti avrà 4 fotocamere di cui quella maggiore ha 13 megapixel E secondo me il punto totale che bisogna dare a questo smartphone è la batteria che è di circa 5000 mAh Precisamente 4680 mAh quindi dura veramente un sacco Lo troverete in 4 differenti colori che sono rosso, verde, nero e blu Secondo me la killer feature di questo smartphone è proprio il colore verde e il colore blu Che sono veramente colori fantastici Altre caratteristiche è uno schermo da 6,49 pollici, è veramente sottile 8,8 mm La batteria è la bionciatetta, il sistema è un Android 9 Ovviamente qui in descrizione ci sarà anche il link che porterà al giveaway Perché chi ha visto il video precedente avrà notato che c'è stato un giveaway di 10 telefoni Blackview 80 Pro Quindi tutti i link relativi allo shop di questo telefono sia su Amazon che su AliExpress E il link del giveaway lo troverete in descrizione Inoltre se correte subito oggi ad acquistare questo smartphone Indipendentemente se lo comprate su AliExpress che è su Amazon avrete una percentuale di sconto Su AliExpress avrete una percentuale di sconto del 10% su acquisti di 100€ Mentre poi se fate acquisti superiore a 150€ avrete una percentuale di praticamente 15% di sconto Lo potete utilizzare grazie praticamente al codice sconto che metterò in descrizione che è Friday10 Quindi lo troverete in descrizione Per quanto riguarda Amazon lo sconto presente in totale è circa di 20% di sconto su tutti i telefoni Quindi indipendentemente su Amazon è sempre 20% di sconto Quindi ragazzi ovviamente come ho fatto già con l'Umedicix che non lo posso prendere perché lo sto utilizzando per fare il flash Comunque come già ho fatto vedere con l'Umedicix quindi farò anche un video recensione per quanto riguarda questo Blackview 80 Pro Perché sicuramente mi arriverà La cosa fantastica è il fatto che venendo così poco quindi 80$ circa 90$ all'incirca Il fatto che ha 4 fotocamere quindi sicuramente avrà la grande angolare che è una cosa veramente importantissima La fotocamera di questi smartphone che sono veramente di basso prezzo quindi low cost È veramente ottima quindi alla grande angolare sicuramente avrà la modalità notte Avrà tantissime funzionalità riguardo alla fotocamera Il processore ovviamente è un processore che bisogna aspettarsi comunque da un telefono che è comunque non neanche medio gamma Per quanto riguarda lo splocco ha lo splocco riferito praticamente al Touch ID che lo troverete invece posizionato dietro praticamente allo smartphone quindi sul posteriore Un'altra caratteristica che è waterdrop ma non impermeabile all'acqua Quindi ragazzi ripetendo il lancio è praticamente il 29 novembre ovvero oggi venerdì correte subito ad acquistarlo perché veramente se vi serve questo telefono Anche perché le avete viste le caratteristiche sono comunque molto importanti Troverete davvero uno sconto che vi permetterà di acquistarlo a un prezzo minore Quindi invece di acquistarlo magari un altro giorno che lo pagherete invece a piezzo pieno andate ad acquistarlo oggi Per quanto riguarda la RAM ha 4 GB di RAM mentre invece ha circa 64 GB di ROM Si sono un po' pochetti ma comunque per quanto riguarda questo telefono e per quanto riguarda anche il suo costo ci stanno benissimo Bene ragazzi io direi che per questo video possa essere tutto in quanto vi ho elencato tutto ciò che c'era da elencare Vi ho detto anche la data, vi ho detto anche come funzionano gli sconti sia su Aliexmin che mi sto confondendo in tutte le maniere Comunque vi ho detto... non riesco più a parlare Comunque vi ho già detto come funzionano gli sconti sia su Aliexpress sia su Amazon Quindi ho la coscienza pulita Voi ovviamente deciderete se acquistare questo smartphone perché sarete voi i veri recensori di questo telefono Bene io mi sono sistemato, ho messo il mio orologio, ho messo il mio orecchino Ebbene ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video Poi vi vorrò sapere se sopravviverò a questo diciottesimo Per questo video è tutto, mettete like, commentate, iscrivete al canale E ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ce la farò metterlo Vediamo Ok Magari facessi video sempre messo in questo modo Magari mi diciamo potrei sembrare più serio Più una persona... non so neanche parlare Cioè come faccio ad essere preso sul serio se non riesco neanche a dire due parole Comunque in fila Facessi video conciato praticamente in questo modo Sicuramente sarei una persona più professionale Comunque basta io direi che questo video può concludersi qua Basta andate alla intro Buonanotte Arrivederci Ciao Are you still looking at me? 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 Grazie a tutti